Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, se dovete organizzare il vostro prossimo viaggio sapete che siete proprio nel posto giusto perché ora vi sto per mostrare questa pagina dove troverete per i prossimi tre mesi tutte le date disponibili con il volo diretto sia per Chisino che per Romania. Quello che dovete fare è molto semplice, dovete semplicemente scrollare in giù, così, e arriviamo a viaggio di gruppo Moldavia. Diciamo che le date sono messe in ordine e avrete tutti gli aeroporti, come detto prima, col volo diretto per Chisino. E iniziamo, sì, ci sono ancora alcune date per giugno, però vi potete concentrare di più, diciamo, per il mese di luglio. E troverete qui le date fino al mese di settembre. Ad esempio anche Milano-Bergamo, la stessa cosa, abbiamo le date per luglio, per agosto e per settembre. E così via per tutti gli aeroporti che abbiamo messo qui. Sempre fino al mese di settembre. Di solito sapete che mettiamo le date per i prossimi tre mesi, appunto, per poter organizzare meglio, per potervi prendere il prima possibile i biglietti, per poter prenotare un posto in clinica, per avere la disponibilità. Come al solito sapete anche che non abbiamo dei pazienti soltanto dall'Italia, abbiamo anche dei pazienti che vengono da altre città europee. Ad esempio, appunto, per quello abbiamo messo anche qualche tratte da Londra, perché ci sono pazienti che vengono già da Londra in questo periodo. Quindi potete scegliere di viaggiare in gruppo a loro. Bisogna semplicemente scegliere una data, dopo cliccare su Appliature Viaggi di Gruppo, connettervi con noi e in modo automatico già noi vi diamo tutte le informazioni necessarie e tutte le domande che avete voi. Noi vi diamo la giusta risposta. Ecco, sempre qui per Chisino ci sono tratte da Francoporti, da Vienna, da Bruxelles, poi c'è anche da Torino, da Varsavia, Memmingen e Dublin. Se ci sono pazienti che vogliono invece venire oppure andare in Romania, ovvero Bukarest o Brasov, la stessa cosa come vale per Chisino, la stessa cosa vale anche per la Romania. Abbiamo qui le tratte da Alghero, sempre per i prossimi tre mesi. Potete vedere allora il mese di luglio, il mese di agosto e il mese di settembre. la stessa cosa per Milano-Malpensa, per Bergamo, da Bergamo ci sono veramente tantissime tratte, tantissime date anche. Sempre da Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Bologna, poi abbiamo Genova, Pescara, Pisa, Napoli, Perugia, Bari, Pisa, Torino, Venezia. Cosa abbiamo poi? E poi anche per Romania ci sono dei aeroporti, diciamo, internazionali che noi abbiamo messo qui. In questo caso ci sono delle tratte da Monaco, abbiamo viaggi da Vienna, da Bruxelles, da Tenerife, da Nizza, Francoforte, Amsterdam e sempre Dublin. Allora, una volta che vi siete decisi, una volta che avete già scelto la data che vi è comoda, dovete semplicemente cliccare qui, dove vi faccio vedere ora, apprezzate il viaggio di gruppo, come ho detto anche prima, che vi collegate in modo automatico a me o alla mia collega Iana, e noi saremo disposti di farvi un prospetto di volo, di aiutarvi con le tratte, con le date disponibili in clinica, oppure, se già avete, non so, qualche domanda un po' più complessa, vi possiamo fare collegarvi al vostro referente clinica. Comunque, noi aspettiamo i vostri messaggi, vi dovete organizzare il prima possibile, appunto per questo che abbiamo creato questa pagina, per facilitare un po' le vostre ricerche e per potervi organizzare il prima possibile, così per assicurarvi un posto in clinica, però ovviamente anche per cercare sempre di risparmiare sui biglietti aerei. Io vi saluto ragazzi, aspetto i vostri messaggi, spero che vi sia stato chiaro e spero che vi sia utile questa pagina, che abbiamo creato appunto per voi. Un saluto a tutti, ciao!